Senta, solo a titolo di curiosità, ma voi sovietici come affrontate la tensione e lo stress? Vodka. Il capitano di policia Ivan Danko è venuto dalla cortina di ferro. Danko? Non c'è di che. A caccia del più implacabile criminale del suo paese. Che cosa ha fatto? Ha tisciato sul muro del Cremlino o che? Chiedo cooperazione. Ma certo, quello che vuoi, Tappo. Ora sta per fare squadra. Con il più imprevedibile poliziotto... Della gioia? Crepa. Grazie. ...delle strade di Chicago. Ha uno stile tutto suo. Cioè, assoluta mancanza di stile. Un poliziotto di Chicago non abbandona mai la sua arma. Vieni. Rizik è un buon poliziotto. Polizia! Non sei riuscito, Victor. Ha ucciso un poliziotto di Chicago e qui ce l'ho io la priorità. Io ho i miei ordini. Danco. Sai come si chiama questa fritta? No! Arnold Schwarzenegger, James Belushi in un film di Walter Hill. Danco. qui ne sono continuano. E tai come si chiama questa fritta... ...ia e i fate.